Torrese e Sambuceto sembra non finire mai per la quarta volta nell'anno. Si scontrano le due squadre che oggi si battono per dare una spallata decisiva alle sorti della graduatoria. Gli highlights di Mario Giacchetta ci mostrano la prima occasione al settimo per i padroni di casa che così sporcano il taccuino. Angolo, teso, mosca. Colpisce benissimo l'istinto di Dedeo. È sorprendente. I viola affaticano un po' ad affacciarsi in area avversa soprattutto verso abate che non viene mai chiamato in causa. È praticamente a differenza di Dedeo che deve spolverare la sfera oltre la traversa alla mezz'ora in seguito ad una bella manovra conclusa da antichi. Non proprio pericolosa ma sicuramente velenosa. Al trentunesimo l'occasione per i viola. Oggi in modaiola maglia arancio calcio franco palla che sfila sottoporta fra una selva di gambe incuranti dello scorrere però della stessa. Nulla di rilevabile fino alla chiusura di tempo in cui i padroni di casa si impongono sicuramente per pressione più determinazione e ovviamente per occasioni. Nella ripresa amnesia in uscita ospite ne beneficia di Federico che va via solo in fascia sinistra e chiama ancora in causa Dedeo che si oppone al diagonale. Sedicesimo Mosca fa tutto bene tranne ad osare il calibro del tiro che in ogni caso si prende gli applausi del castrum. Minuto 23 chi sembra rubare la scena dell'impianto di Giulianova è Dedeo ancora prodigioso su un Mosca tanto bravo quanto sfortunato. Il Sambuceto fa troppo poco davanti. Miciche viene rilevato da Barro ma la forza offensiva rimane oltremodo innocua. La porta teatina sembra essere stregata per i giallorossi che cominciano a pensare mare al trentesimo quando pure la base del palo nega la gioia del gol a Mastrilli che a onor del vero sarebbe meritato. E così al quarantesimo la svolta della contesa. Marfisi irrompe ingenuamente a nostro parere in area su di Federico così Ferdinando Carluccio non ha esitazioni ad indicare il dischetto. Antichi calcia benissimo forte ed angolato stavolta per Dedeo non c'è nulla da fare 1 a 0. E la gara finisce qui tre punti per i padroni di casa che consolidano il sogno playoff per Donato Ronci. Viola da rivedere. Vissero una porta che sembrava stregata. Sì è stata una prestazione importante da parte dei ragazzi siamo riusciti a sbloccarla solo alla fine. Credo che non abbiamo rubato nulla i punti la squadra ha meritato secondo me di vincere la partita. Credo che sia stata una delle migliori gare della stagione in un momento cruciale. Avevo chiesto una partita di grandissima densità e i ragazzi l'hanno fatto alla grande. Sono veramente orgoglioso della prestazione che hanno fatto hanno capito che insomma c'è bisogno di fare questo tipo di prestazioni per fare il risultato quindi potevamo anche non vincere ma alla lunga se approcci la gara così il risultato pieno arriva e sono veramente orgoglioso di essere allenatore di questa squadra. Buono stato di forma intensità e soprattutto anche una calma che vi ha portati a non eccedere mai a cercare comunque sempre il risultato perché se il gol non viene poi si corre il rischio di nevosissi. Anche questo mi è sembrato importante. Sì in altre occasioni ci è capitato quello che stai dicendo tu di avere fretta di nervosirci invece oggi veramente ho visto una squadra matura che è arrivata alla conclusione di questo campionato capendo insomma quello che sono i momenti della gara avendo pazienza e mettendo in campo qualità intensità attenzione i ragazzi veramente hanno avuto oggi un esame di maturità importante mi auguro che insomma per loro veramente di dare seguito a questo risultato perché ripeto abbiamo un finale di stagione che insomma all'inizio stagione non era pronosticabile adesso siamo lì e noi ce la giocheremo con tutti. Vecchiotti avete resistito 85 minuti poi il calcio di rigore che vi ha piegato. Esattamente come dice lei è una partita equilibrata contro una squadra di livello una squadra forte perché la Torvenese sappiamo che è forte purtroppo dobbiamo constatare l'ennesima decisione arbitrale a noi sfavorevole che domenicalmente e puntualmente avvengono. Queste decisioni ormai ci stanno penalizzando non molto e chiaramente vanificano la domenica tutto il lavoro che la squadra il mister e tutto lo staff fa settimanalmente con i ragazzi e vanifica anche l'impegno dei ragazzi. Ormai è una costante abbiamo assistito a decisioni cervellotiche, al gol annullati per non si sa per quali motivo quindi è una situazione che noi vogliamo segnalare agli organi competenti perché ci sia qualcosa che verifichi questa situazione e torniamo ad essere un po' più rispettati. Ecco un minimo di rispetto anche perché stiamo vivendo una fase del campionato decisivo ci sono tante squadre con pochi punti, si lotta fino all'ultimo punto quindi un errore arbitrale potrà essere determinante alla fine del campionato per un'eventuale salvezza e un'eventuale processione.